Eccoci, buonasera, il telegiornale parte ancora da Ostia, dove dopo il fermo di Roberto Spada emergono, secondo l'accusa, secondo gli inquirenti, nuovi elementi che altro che il fatto in sé, la violenza in sé, che individuerebbero come il capo del suo clan lo stesso Spada, che è incensurato, ma che, secondo le rivelazioni di alcuni collaboratori di giustizia, in realtà avrebbe un ruolo, come si dice in questi casi, apicale, un ruolo di vertice nelle attività illegali, soprattutto il traffico di droga, così si dice. Ma in realtà, mentre si preannunciano manifestazioni varie, tra l'altro che si intrecciano col fatto che c'è la campagna elettorale per il turno di ballottaggio tra 5 Stelle e centro-destra, ci sono anche però delle altre spiegazioni da dare su quello che è successo, tra cui una che ci riporta, come vedremo, a una fiction che è già in circolazione, che è direttamente, ha riproposto quasi la stessa scena che noi purtroppo abbiamo visto nella realtà. Ma vedremo poi che ci sono altri fatti che riprendono ciò che abbiamo visto i giorni scorsi. Abbiamo infierito con durezza sulla vicenda di Cateno De Luca, il consigliere regionale del Udc, eletto all'Assemblea parlamentare siciliana e arrestato praticamente 48 ore dopo la sua elezione. Si è parlato di lui già da settimane come un impresentabile, del resto la notizia dell'Ordine di Custodia lo aveva confermato. Oggi c'era un processo, un vecchio processo per concussione e altre ipotesi di reato ed è stato assolto. Vedremo cosa è successo al momento della sua assoluzione. Ma vedremo anche come la politica viva anche di nuove fibrillazioni molto forti. Intanto Grillo esclude definitivamente con un blog al vetriolo ogni possibilità di intesa post-elettorale con MDP e con la Lega. Si parla di due stalker. Dopo il voto siciliano siamo stati vittima di due stalker, dice il testo che si legge sul blog, il post sul blog. E poi si infierisce su MDP dicendo che l'acronimo sta per mantenimento del poltrone. Non è difficile capire che non ci sarà quindi nessuna possibilità di intesa post-elettorale. Mentre il clima si fa decisamente difficile, ancora una volta proprio tra i fuoriusciti del Partito Democratico e i Renziani. Le parole pronunciate ieri sera da Grasso sono così dure da avere una risposta inevitabile. Ma vedremo anche gli altri fatti di cronaca. C'è quella vicenda vicino a Milano, un'altra volta molto simile a quel purtroppo famigerato sasso del Cavalcavia. Ricorderete la vicenda di Tortona di tanti anni fa. Una donna è morta per lo spavento, in realtà perché un enorme sasso era stato lanciato dall'alto e aveva colpito la parabrezza della vettura nella quale si trovava. Ma vedremo anche le notizie inquietanti dall'estero, ancora una volta sullo scontro che può trovare un terreno militare in Libano tra Arabia Saudita e Iran. Ma anche il fatto che Teresa May, pressata dalle critiche in Patria, ha trovato un diversivo importante. Ha fissato la data della Brexit, 29 marzo 2019 alle 23. 30 secondi i titoli. Nella richiesta di convalida del fermo di Roberto Spada, che a Ostia ha colpito il giornalista della RAI, i magistrati affermano che l'uomo, secondo alcuni collaboratori di giustizia, ha un ruolo di vertice nel clan familiare e controllerebbe il traffico di stupefacenti. Ma c'è un sospetto, un dubbio che ci può essere, che questa scena, che vediamo e che rivedremo, che viene da una fiction che proprio in queste settimane è in programmazione su Netflix, sia la vera ispiratrice di quel che è accaduto. Il deputato regionale siciliano Cateno De Luca, arrestato subito dopo praticamente l'elezione per evasione fiscale, è stato oggi assolto al tribunale di Messina in un altro processo in cui era accusato di corruzione e concursione. De Luca, applaudito al verdetto, attacca i magistrati e parla di verminaio massonico. Il Movimento 5 Stelle dice no a qualsiasi alleanza con MDP e Lega. Grillo sul blog li definisce stalker e poi non frange, ma frangette del sistema. Con loro non vogliamo avere nulla a che fare. Alta tensione tra PD e Grasso, accusato di usare toni sprezzanti per il suo ormai ex partito. La Gran Bretagna uscirà dall'Unione Europea venerdì 29 marzo 2019 alle 23, che vuol dire la mezzanotte del resto d'Europa. L'annuncio della Premier Theresa May è nella legge quadro sulla Brexit, sul divorzio tra Regno Unito e Bruxelles e arriva in un momento in cui Downing Street è sotto tiro per una serie di scandali. Sempre più grave è la crisi che coinvolge l'intero Medio Oriente attorno alla sfida tra Arabia Saudita e Iran, rispettivamente il gigante sunnita e quello sciita. Il leader del movimento libanese Hezbollah vicino a Teheran afferma che il premier libanese Ariri è agli arresti in Arabia Saudita e che il regime di Riyadh ha dichiarato guerra proprio a Libano e Hezbollah, sostenuti dal regime iraniano. Buonasera, molti fatti, ma ripartiamo anche questa sera da Ostia. Innanzitutto per le notizie. Arrestato ieri grazie alla scelta dell'aggravante mafiosa per l'atto di violenza che ormai tutta Italia ha visto. Oggi la Procura di Roma corrobora la sua richiesta di trasformare il fermo in arresto con il riscontro di alcune testimonianze, di testimoni di giustizia che parlano di Roberto Spada come del capo di fatto per la sua famiglia di un traffico di droga. Per capire perché è in carcere Roberto Spada bisogna leggere con attenzione l'ordinanza di fermo emessa dalla direzione distrettuale antimafia. Spada da ieri sera in una cella del carcere di Regina Celi accusato di lesioni e violenza privata aggravate dal metodo mafioso ma fino a ieri era incensurato. Eppure appena qualche mese fa due pentiti ritenuti dalla Procura di Roma molto attendibili hanno reso lunghe dichiarazioni che raccontano altro. Parlano di un ruolo chiave di Roberto detto Ziba all'interno del clan Spada. I magistrati scrivono I collaboratori hanno indicato Spada Roberto come un soggetto che comanda e può dare ordini. Uno dei due pentiti ha raccontato che lo stesso Roberto Spada si è letteralmente impossessato della casa di uno spacciatore perché non gli aveva pagato una partita di hashish dandogli in cambio la sua 100 metri quadri al posto di 40. Uno scambio accettato senza l'ombra di una protesta per evitare ritorzioni. Proprio l'appartamento dove ieri Roberto Spada è stato fermato dai carabinieri. Uno dei collaboratori di giustizia ancora dice Posso indicarvi personaggi di maggiore spessore criminale. Roberto Spada è uno che comanda in seno alla famiglia. Lui si occupa del traffico di sostanze stupefacenti. Eppure fino a ieri non è stato neppure l'ambito da una delle tante inchieste che hanno portato in cella uno dopo l'altro i suoi parenti a partire dal fratello Carmine, il boss. È in questa cornice che si inquadra secondo gli inquirenti l'aggressione di due giorni fa una vera e propria lezione scrivono ancora i PM nei confronti di chi aveva osato sfidare gli Spada sul loro territorio. E così ora le autorità di polizia cercano di correre ai ripari. Il 14 novembre il prefetto ha convocato una seduta dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza per potenziare il sistema di controllo in vista del ballottaggio di domenica 19 tra le due candidate 5 stelle contro centro-destra. A otto giorni da quel voto domani sfilerà ad Ostia il corteo promosso dal sindaco di Roma, Virginia Raggi, troppo vicino al ballottaggio per non apparire come uno spot elettorale agli occhi di chi quasi tutti gli schieramenti si è tirato fuori. Ci saranno solo MDP e Sinistra Italiana, il 16 invece, tutti a marciare sotto le bandiere di Libera e della Federazione Nazionale dei Giornalisti per quelle strade dove durante l'aggressione la gente gridava al giornalista avete visto che succede se venite qui. In Italia non ci sono zone franca, detto ieri il ministro Minuti, bisognerà dimostrarlo. Si è detto nei giorni scorsi quella testata una dimostrazione di impunità, di sopraffazione e di potenza, ma in realtà molto più banalmente potrebbe essere qualcos'altro. Diceva Oscar Wilde, se non sbaglio, che la vita imita l'arte più di quanto l'arte non imiti la vita. Qui più modestamente la cronaca forse imita la fiction più di quanto la fiction non imiti la cronaca. Suburra era un libro di Bonini e Decataldo che raccontava proprio anche quel che succedeva a Ostia. C'erano anche gli Spada con altri nomi, c'era tutto quello che si è rivelato poi. Suburra è diventato prima un film e poi una fiction che da poche settimane è sul circuito di Netflix. Grazie a Catleia che lo ha prodotto e realizzato possiamo vedere una scena che ci fa capire che forse proprio a questo si è ispirato Spada. Pensavate che fosse cronaca la testata di Ostia e invece è fiction oppure è il contrario, fiction che diventa cronaca. Vi facciamo vedere delle immagini. Si tratta della prima puntata di Suburra, la serie televisiva in onda su Netflix. Non ci vuole molto per fare uno più uno e per associare queste di immagini a queste altre e per capire che le prime, quelle di Suburra che si svolge e guarda un po' proprio a Ostia, rimandano alle altre, alla Ostia vera, quella dove il sangue non è pomodoro cinematografico. Una sorta di rimbalzo tra ciò che si immagina e ciò che in realtà è. Suburra smette di essere una fiction perché ogni tanto ancora succede che la realtà sopravanzi la fantasia. E Roberto Spada che ruolo interpreta in questa giostra? Quello dell'attore o quello del delinquente? O tutte e due insieme? Perché viene un sospetto che il pitbull di Ostia sia in realtà una figura molto più modesta di come sia stata disegnata da tutti noi in questi due giorni. Procacciatore di voti, dispensatore di prebende, welfare alternativo l'ha definito qualcuno, geloso custode del suo territorio. Forse invece niente di tutto questo, semplice emulo di questo incredibile impasto di politica e malaffare. Fare come quelli del film in tv, apparire, un po' come Francesco Spada, il clan è sempre lo stesso, che si infila alla presentazione del film Suburra e si fa fotografare insieme a Favino e ad Amendola. Succede solo ad Ostia, dirà il senatore PD Stefano Esposito, che di Ostia è stato commissario per il suo partito per due anni. Un po' come le immagini dell'arresto di Carminati, realtà e fantasia. Le telecamere ci sono nella testata di Suburra e le telecamere ci sono nella testata di Roberto Spada contro il cronista che fa troppe domande. E quelle due testate spiegano molto di Ostia, delle elezioni, dell'astensionismo, del 9% a casa Pound, del perché qui un anno fa pure un dirigente del commissariato sia stato arrestato, lavorava per i boss. Ostia, che per molti è diventata sinonimo di Suburra, conta 230.000 abitanti. Da Roma si corre persino con una mezza maratona. Il lungomare è stato ribattezzato Lungomuro e all'Idroscalo, il monumento a Pasolini, è sbarrato da un cancello. Questo per quanto riguarda Ostia. Poi c'è l'altra questione che ha messo in ballo i rapporti tra illegalità e politica. La vicenda legata al nome, già il nome di battesimo, Cateno, purtroppo è stato variamente interpretato, Cateno De Luca, eletto domenica scorsa all'Assemblea regionale siciliana e 48 ore dopo arrestato. L'impresentabile per definizione. Oggi ha sentenza per un'altra vicenda che lo vedeva implicato, ma assolto. Ha atteso la sentenza tenendo il rosario tra le mani ha pregato a testa bassa fino all'ingresso dei giudici. Cateno De Luca è il deputato dell'Udc Neoletto all'Assemblea regionale siciliana arrestato quattro giorni fa all'indomani del voto con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata all'evasione fiscale e frode. Oggi era imputato in un altro vecchio processo. Concussione, abuso d'ufficio è falso. In atto pubblico i reati che gli venivano contestati dopo una breve Camera di Consiglio e giudici lo hanno assolto. Applausi e corri da stadio dentro l'aula mentre De Luca, piangendo, abbracciava i suoi legali l'esito del primo grado di un processo per una vicenda che risale ad anni fa a quando De Luca era sindaco del suo paese Fiume di Nisi, provincia di Messina, sui monti peloritani. Secondo i magistrati, tra il 2004 e il 2010 ci avrebbe stravolto il programma urbanistico per favorire imprese edili della sua famiglia. Il fatto non sussiste, ha stabilito il Tribunale di Messina dando il via alla gioia dei suoi sostenitori a quella carica di messaggi dello stesso De Luca. Messina si deve liberare da questo ferminaio massonico e di questa sporcizia. In questo Tribunale ci sono giudici onesti oggi lo hanno dimostrato ma ce ne sono corrotti e continuerò a combatterli perché io sono ancora in uno stato di detenzione proprio perché mi sono permesso di denunziare più volte dei pubblici ministeri. De Luca ne ha per tutti per il procuratore capo di Messina, Vincenzo Barbaro per Salvini e Grillo che sfida singolar tensone politica, si intende. Poi, tornando a casa dove è costretto agli arresti domiciliari per una presunta maxievasione da un milione e 750 mila euro si ricorda che per un capo quello di tentata concussione è stato assolto per prescrizione. Non escludo che rinuncio alla prescrizione di alcuni capi e quindi andare avanti fino in fondo facendo appello ma per un motivo molto semplice perché ho subito in questi sette anni 15 procedimenti penali sono stato assolto sempre. De Luca lo afferma in un videomessaggio su Facebook registrato in macchina mentre torna a casa e sul quale pubblica anche la lettura integrale della sentenza. Domani dovrà però tornare nuovamente al tribunale di Messina dove è atteso per l'interrogatorio di garanzia. E la garanzia le garanzie valgono anche per De Luca in una situazione davvero particolare. Del resto dopo il voto siciliano al di là della polemica sugli impresentabili del resto però il centrodestra ha per le liste un vantaggio di diverse centinaia di migliaia di voti rispetto al Movimento 5 Stelle quindi parlare di impresentabili decisivi è un tantino azzardato però dopo l'esito dell'elezione siciliana dicevo Grillo vuole mettere le cose in chiaro per quanto riguarda la possibilità che visto appunto quel risultato per i 5 Stelle ci sia la tentazione di qualche collegamento di qualche alleanza di qualche desistenza dopo il voto nazionale niente affatto e soprattutto MDP e Lega non si illudano No al soccorso rosso e no alla Lega per noi pari sono non lascia spazio al dubbio il titolo del messaggio apparso a metà pomeriggio sul blog di Grillo che chiude la porta per l'ennesima volta ad ogni ipotesi di intesa tra 5 Stelle ed altre forze politiche durissimo il contenuto da qualche settimana siamo perseguitati da due stalker MDP che sta per mantenimento della poltrona e Lega Nord sono le frange anzi le frangette del sistema si legge sul blog dopo il voto in Sicilia che ha messo in discussione la sicurezza delle ammucchiate con il Rosatellum il loro stalking si è fatto martellante noi con questa gente non vogliamo averci nulla a che fare scrivono i parlamentari del movimento sempre più convinti di voler giocare da soli la sfida dell'anno prossimo gli attacchi allora vanno proprio nella direzione di chi punta allo stesso elettorato quindi nel mirino finisce Bersani che scrivono i parlamentari 5 Stelle ora va in giro a fare l'amico dei lavoratori a chiedere di ripristinare assieme l'articolo 18 ma il Jobs Act che ha distrutto i diritti lui lo ha votato per disciplina e l'etica che gli diceva ma dello stesso tenore è la risposta dei 5 Stelle girata alla Lega siamo pronti ad un governo di un anno anche con i 5 Stelle su due o tre punti che possano essere d'aiuto al paese l'offerta di Giancarlo Giorgetti che prova a stanare i 5 Stelle nel loro campo sugli accordi di programma senza riuscirci Salvini prima diceva mai più con Berlusconi ora si butta tra le sue braccia nella speranza di qualche poltrona fregandosene della sua gente chiudono la porta ancora quelli del movimento da parte sua Salvini non si cura dei 5 Stelle ma torna a promettere sfracelli in caso di ritorno in aula dello Ius Soli se fosse anche il giorno di Natale noi lo passiamo a Roma promette e allora si prepari a mangiare il panettone a Roma gli replica dal PD Gero Grassi PD dove continua la polemica a distanza con gli ex a Pietro Grasso leader infectore della sinistra che dice il PD non esiste più non risponde Renzi con lui non polemizzo così a ribattere a tono ci pensa il coordinatore Lorenzo Guerini chiedo rispetto per il PD come noi ne abbiamo per il piccolo partito di cui Grasso mi pare aspiri a diventare leader le parole di Guerini non sono condivisibili le cose che dice Grasso si schiera anche Dario Franceschini andiamo adesso però a vedere dei fatti di cronaca su cui è importante concentrare la nostra attenzione a cominciare da ciò che è accaduto alle porte di Milano non c'è ancora nessuna certezza su chi uno o più persone abbia lanciato nel buio della notte questo sasso di calcestruzzo pesante oltre un chilo di certo è che la pietra scagliata da un terrapieno alto 6 metri ha colpito un'auto diretta a Milano ieri poco dopo le 23.30 sulla strada provinciale 121 tra Cernusco sul Naviglio e Carugate nel Milanese sull'auto viaggiavano 5 persone di fianco al conducente era seduta una donna di 62 anni questione di secondi un impatto violento la pietra ha sfondato il parabrezza all'altezza del viso della donna ma non l'ha colpita Nilde Caldarini è morta per un malore probabilmente un infarto dovuto allo spavento non ci siamo accorti di nulla abbiamo sentito un colpo molto forte sul parabrezza il racconto del conducente un uomo di 43 anni quest'oggi ai carabinieri di Milano che indagano sull'accaduto Nilde Caldarini era sotto shock mi sono fermato ed abbiamo chiamato il 118 dice inutili i soccorsi nel tentativo di rianimarla illesi gli altri 4 passeggeri tornavano da una veglia di preghiera in una parrocchia in provincia di Bergamo questa montagna di terra dalla quale è partito il sasso divide le abitazioni della zona dalla strada scorrimento veloce una barriera antirumore la provinciale è stretta rumorosa di fianco ci sono campi e serre di alcuni coltivatori della zona intorno non ci sono telecamere di sorveglianza ci sono però quelle delle abitazioni di qualche locale nelle vicinanze gli investigatori contano anche su queste per ricostruire movimenti di persone e passaggi di autosospette la procura di Milano ha aperto un fascicolo per morte in conseguenza di un altro reato in attesa dell'autopsia sul corpo della donna gli inquirenti valutano tutte le ipotesi molto potranno dire le tante testimonianze raccolte dai carabinieri durante tutto il giorno dei residenti che affacciano davanti alla collinetta l'auto è sotto sequestro intanto ci sono i numeri preoccupanti di un fenomeno che dagli anni 90 terrorizza gli automobilisti in Italia nel 2016 per atti simili sono stati fermati 48 minorenni e 13 maggiorenni nel 2017 invece fino ad oggi sono una trentina i minorenni fermati 10 i maggiorenni i giudici del tribunale di Rimini hanno condannato a 16 anni il congolese ventenne Butungu a processo corrito abbreviato considerato il capo lo ricorderete sicuramente di quel branco che si era reso protagonista del duplice stupro avvenuto nella riviera romagnola una notte dello scorso agosto per l'imputato la procura aveva chiesto 14 anni le vittime di quella violenza feroce furono una ragazza polacca di 26 anni che stava passeggiando nella notte in spiaggia con un amico anche lui picchiato brutalmente rapinato e una transessuale peruviana che era riuscita a fornire un identikit del congolese il ragazzo quella notte aveva agito insieme ad altri tre complici minorenni arrestati anche loro e per i quali il processo deve ancora cominciare queste le notizie di cronaca ma vi devo parlare adesso di due fatti internazionali importanti uno che riguarda l'Europa c'è la data c'è perfino l'ora oltre che il giorno il mese l'anno della Brexit 29 marzo 2019 alle 11 di sera ora di Greenwich la mezzanotte a Bruxelles una data un orario che da oggi campeggiano sulla prima pagina della legge sul ritiro dall'Europa la carta d'identità della ben nota Brexit proposta di legge del governo di Teresa May che tra qualche giorno ne chiederà la luce verde al Parlamento di Londra una discussione che nelle intenzioni della traballante inquilina di Downing Street non dovrà riservare sorprese patti accordi dell'ultimora che possano mettere a rischio se non addirittura solo in discussione l'uscita dall'Unione Europea del Regno Unito voluta dal popolo con il voto del 2016 preoccupazione che sembrerebbe legittima date le voci e i contatti tra laburisti da sempre contrari ad un'uscita violenta dall'Unione e un manipolo di deputati conservatori a favore sin dall'inizio del no all'abbandono di Londra dal club dei 28 un'eventualità che turba la premier britannica anche per un'altra ragione legalmente infatti non esisterebbe nulla che ostia ad un ritorno sui propri passi della Gran Bretagna se ci si dovesse rendere conto che la separazione dall'Unione potrebbe equivalere ad un'autentica catastrofe come prospettato da tempo e da molti questo potrebbe accadere anche senza bisogno di una nuova consultazione referendaria a sostenerlo è Lord Kerr uno degli esperti che in rappresentanza proprio del governo di sua mestà partecipò effettivamente alla stasura dell'articolo 50 del trattato europeo di Lisbona che ha permesso a Teresa May di avviare la procedura di separazione ma ad un anno e mezzo di distanza dall'ora in cui Londra potrebbe dire addio a Bruxelles la sensazione è che il governo May in realtà sia più in difficoltà di quanto non appaia due ministri Ferlon della difesa e la signora Pretty Patel del di Castero per lo sviluppo internazionale si sono dimessi negli ultimi 15 giorni il primo per molestie sessuali e la seconda per non aver reso noti contatti avuti con esponenti politici israeliani un problema sembra essere poi anche Boris Johnson da sempre criticato per le sue gaffora ministro degli esteri alle prese con la grana della cittadina britannico iraniana detenuta a Teheran per sospetta cospirazione per tornare in conclusione alla Brexit oggi il capo negoziatore dell'Unione Michel Barnier ha avvisato Theresa May Londra ancora 15 giorni di tempo per ottenere le concessioni sulla liquidazione da versare a Bruxelles se non presenterà in tempo le sue cifre il futuro delle redazioni dice Barnier sarà ancora più complicato non c'è stato o perlomeno non c'è ancora stato l'incontro il colloquio tra Trump e Putin in margine all'incontro di cooperazione economica dei paesi dell'Asia che si affacciano sul Pacifico e lì ci sono appunto oltre al leader cinese e ovviamente il leader vietnamita che ospita tutti ci sono il capo della Casa Bianca e quello del Cremlino si sono visti si sono stretti la mano ma non c'è per ora nulla di più ci saranno colloqui però in queste ore perché si deteriora sempre di più ve l'abbiamo preannunciato ieri la situazione tra le due superpotenze islamiche del Medio Oriente l'Arabia Saudita sunnita da una parte l'Iran sciita dall'altro e proprio dagli Stati Uniti da Rex Tillerson che è il segretario di Stato americano viene un monito a tutte e due questi paesi non usate il Libano come terreno di una guerra per delega ma è proprio quello che sta per succedere come una miccia innescata a livello locale la crisi tra Libano e Arabia Saudita sta infiammando l'intera regione mediorientale con conseguenze che ad oggi nessuno può prevedere e che potrebbero colpire anche l'intera comunità occidentale perché il Libano non è un paese qualsiasi il suo destino inseparabile da quello di Israele e della Siria e lo dimostra il fatto che nelle ultime ore a sorpresa il presidente francese Macron è volato a Riyadh per un faccia a faccia con l'uomo forte del regime saudita il principe ereditario Mohammed Bin Salman e non solo perché il Libano è una zona di influenza francese ma perché in gioco c'è molto altro compresi gli accordi nucleari con l'Iran cui Parigi tiene molto lo scontro infatti si sta consumando su due livelli il primo è quello ufficiale Beirut accusa Riyadh di tenere prigioniero il suo primo ministro Hariri e di averlo costretto ad annunciare le dimissioni con quel discorso subito sembrato sospetto perché pronunciato in un arabo classico senza contaminazioni libanesi come fosse stato scritto da qualcuno che parla all'arabo del golfo il secondo è quello più sotterraneo in realtà l'Arabia Saudita guarda a Libano per colpire l'Iran Riyadh in sostanza vuole costringere Beirut a escludere dal governo Hezbollah il movimento sciita alleato appunto dell'Iran per frenare l'ascesa della Repubblica Islamica nella regione non a caso oggi il leader degli Hezbollah libanesi Nasrallah dal suo luogo segreto d'esilio è tornato a farsi sentire con un jacuzze diretto il premier libanese Hariri ha detto è prigioniero a Riyadh non può tornare a Beirut non solo ha anche accusato l'Arabia Saudita di incitare Israele ad attaccare il Libano per far fuori il movimento Hezbollah un'ipotesi che avrebbe conseguenze devastanti un eventuale attacco da parte saudita o israeliana scatenerebbe la reazione iraniana subito i Pasdaran potrebbero spostarsi sul Golan lungo quello che ormai viene ribattezzato il corridoio sciita aperto da Baghdad a Damasco anche per questo le diplomazie sono al lavoro senza tregua il segretario di stato americano Tillerson è stato molto chiaro bisogna evitare ha detto di utilizzare il Libano come luogo di conflitto per procura mentre l'ambasciatore italiano ha incontrato direttamente il premier dimissionario libanese Hariri naturalmente per ora a Riad anche i più distratti di voi sapranno che domenica sera dopo il telegiornale dopo il nostro telegiornale quindi alle 8.35 parte non è l'arena anche i più distratti sanno cosa vuol dire questo non è l'arena l'arena era il programma del primo pomeriggio della domenica su Rai 1 lo conduceva Massimo Giletti e dell'unica cosa che ha in comune con non è l'arena è così Massimo ma sì certo anche se ormai quella è una storia passata pre-storia pre-storia ormai rispetto perché la velocità del tempo è infinita quindi sembra davvero passato molto tempo anche se c'è tutto dentro c'è tutto dentro meno la camicia però allora noi sappiamo già dall'altra parte della città mi hai trovato è vero è vero ti ho preso al volo senti abbiamo già fatto vedere grazie a te e quei fotogrammi che hanno preceduto l'arresto di Tulliani a Dubai quindi sappiamo che quello è uno degli ingredienti della prima puntata c'è qualcos'altro che ci puoi dire? beh credo che uno dei motivi per cui forse sono dovuto arrivare alla sette è anche perché mi sono occupato spesso dei vitalizi vedo che gli italiani devono andare forse in pensione a 67 anni ma la politica vuole andare prima ecco questa disparità ancora di trattamento che esiste noi andremo su quello parleremo con chi invece difende non dico stile capanna ma insomma in modo molto serio la sua posizione e quindi questo è un altro piatto c'è qualcos'altro? beh insomma la storia delle donne che continuano a sostenere in tanti in tutte le parti del mondo di essere molestate in certi ambienti noi torneremo su questo ci sarà anche Claudia Mori che mi dà arriverà anche Claudia Mori in qualche modo che è una posizione molto dura un giornalista che amo molto come fini ma che ha detto questa cosa ci sono due fini quindi nella prima puntata citati sono tanti senti allora appuntamento alle 20 e 30 ci sarò dopo di me non potrò che venire anzi io devo ringraziarti perché hai dato veramente un grande aiuto in questo periodo vediamo aspettiamo di vedere se è stato utile è stato utile è stato utile comunque sicuramente sarà un prodotto totalmente giornalistico quindi di questo ti ringraziamo e siamo sicuri non resta che dare appuntamento e ricordare anche che colui che è stato il tuo primo maestro Giovanni Minoli inizia anche lui domenica alle 14 con una nuova c'è un faccia a faccia con Giletti ci sei tu? sì quindi è strano maestro allievo tutto quello si mischia tutto insomma domenica è una giornata dove i sentimenti è dedicata alle famiglie del resto quindi volano grazie a Massimo Giletti dopo di noi c'è Lilli Gruber che in questa puntata di 8 e mezzo ha con sé il magistrato Nicola Gratteri con Andrea Franzoso che è l'uomo che ha saputo smascherare e dire di no quelli che whistleblowers come dicono gli inglesi e poi c'è anche Stefano Zurlo ci fermiamo infine la chiusura settimanale delle borse meno 0,36 l'ultimo indice Fuzzi Mib di Milano mentre in questo momento è praticamente invariata la borsa americana il Dow Jones lascia lo 0,16 il Nasdaq guadagna lo 0,01 è tutto linea a Lilli Gruber poi che cosa c'è? ci sono gli amici? no, non ci sono perché non saltano questo turno gli amici di Propaganda Live l'appuntamento è a venerdì prossimo a domani a domani ciao Grazie a tutti.